ciao ragazze bentornati in questo nuovo video sul mio canale io sono l'univers fanzio 6 oggi vi faccio un tutorial non so come dubbicare lo schermo del computer su una tv allora prima cosa è la base cioè la cosa base perchè senza di questo non potremmo farlo è l'hdn bay questo filo qui che si attacca dietro la tv oppure dipende all'esterno dal modello di tv che avete e poi si attacca al nostro computer prima accendiamo la tv ecco il computer quindi adesso 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 attacchiamo attacchiamo il video l'hdmi al computer all'entrata del computer ok l'abbiamo attaccato qui h e poi qui andiamo l'opzione hdmi perchè questo hdmi 1 o io l'uomo aspettiamo che condite ecco qua condite è come un alibio diciamo proviamo a mettere qualcosa per vedere più che funziona con il fango pop lo sto messo un po' bene poi il video lo compro non so quando ho visto il mio canale ho visto anche di il video se lo si trovo io ho ancora deciso bene e soprattutto non fate like e condividere e scrivere e soprattutto quando vi scrivete attimate la campagna questo non posso mettere in questo modo dove mi fa un certo in questo modo vabbè non ci trovo come si può e mi spiegate al canale come ci ho detto e ciao